buongiorno a tutti controlliamo audio se è tutto a posto allora possiamo iniziare vorrei sapere se vedete il mio schermo vedete il video ok adesso sto leggendo le risposte della chat russa mi stanno mettendo in tutti i dieci perfetto nella stanza russa abbiamo 30 partecipanti 11 nella stanza italiana abbiamo anche un live su facebook e anche su youtube comunque aspettiamo tutti i nostri partner e noi intanto iniziamo vedo il benvenuto alla nostra presentazione mi chiamo ivan polojancik se non mi conoscete allora mi presento adesso vedete l'informazione su di me dal 2012 sono un pedagogo psicologo ho iniziato il mio lavoro come allenatore ma con il tempo ho capito che purtroppo non riesco a guadagnare tantissimo facendo allenatore quindi ho iniziato a vendere diversi diversi programmi diversi software poi dal 2014 sono un libero professionista e ho iniziato anche di accantonare il 10 per cento dal mio guadagno in banca quindi subito nel 2014 ho avuto questa voglia di mettere da parte un po di soldi e poi ho anche studiato dove si può investire dove si può e come si può aumentare il proprio capitale poi nel 2015 ho conosciuto l'accademia ho iniziato a studiare in modo attivo in modo attivo e quando nel 2017 ho scoperto bitcoin nella criptovaluta in generale quindi il mio primo passo era investire nel bitcoin ho anche provato a lavorare come trader però comunque non ho avuto un risultato positivo perché con il quando il mercato cresce guadagnano tutti però quando mercato scende guadagnano solamente i professionisti e da questo ho scoperto che trader è una vera e propria professione e ho preso la decisione di rimanere investitore comunque dal 2010 dal 2017 ho iniziato a investire in criptovaluta analizzo le tendenze globali e del 2021 sono stato invitato dall'accademia dell'investitore privato ad organizzare i webinar sull'argomento proprio di criptovaluta quindi oggi vi presento un'opportunità di investimento vi presento un prodotto apparso da poco nel nostro back office crypto unit nella sezione crew così tutti gli utenti possono acquistare questo strumento e testarlo allora passiamo subito a questo strumento spero tanto di avere nelle nostre chat anche dei principianti quindi chiedo a tutte le persone di mettere uno nella chat se siete un principiante se oppure se sentite per la prima volta il nostro strumento che si chiama cadex però se siete da noi da tanto tempo allora mettetemi qualsiasi cifra oppure un più vuol dire che siete con noi studiate i nostri prodotti io intanto aspetto le vostre reazioni e cambiamo la slide vediamo come si chiama questo prodotto e smart portfolio allora come funziona esiste un algoritmo un programma matematico che calcola diciamo la composizione del vostro portafoglio ideale sto parlando del portafoglio cripto e raccoglie questo portafoglio sulla borsa binance quindi i vostri soldi si trovano sull'account di binance perché binance perché è la borsa l'exchange più grande su binance sono presenti tantissime valute criptovalutare poi ci sono anche tantissimi utenti quindi sono concentrati tanti soldi proprio su questo exchange e non tutta non tutte le borse possono avere una vasta gamma diciamo delle criptovalute il servizio si collega alla borsa grazie alle chiavi api e distribuisce i soldi che avete sul vostro account acquistando la criptovaluta quindi la domanda come viene in che modo viene distribui viene vengono distribuiti i soldi come analizza le criptovalute adesso insieme analizzeremo questo strumento che algoritmo applica e perché interessante può essere anche utile a tutta la nostra rete e perché l'azienda oggi pay group ha iniziato ad usare questo servizio per il proprio portafoglio allora spero tante tanto che voi conosciate l'indice nsp 500 se sapete che cos'è mettetemi 5 nella chat oppure se non avete mai sentito nominare l'indice nsp 500 mettetemi zero nella chat vi chiedo la vostra partecipazione nella chat per me è importante avere un feedback sarebbe bello se partecipante di altre chat mi scrivessero anche nella chat russa perché io posso leggere solamente la chat russa comunque mi fa molto piacere che c'è tanta gente che conosce l'indice nsp 500 però comunque ci sono anche le persone che hanno messo zero quindi per queste persone spiego che tipo di indice allora esiste il mercato azionario americano su questo mercato potete trovare le aziende come tesla mcdonald's bank of america poi a non lo so amazon le aziende di diversi settori quindi che cos'è l'indice nsp 500 allora questo è l'indice che ci fa vedere come cambia il valore delle azioni delle 500 aziende americane se noi prendiamo 10 aziende ogni azienda ce l'ha le proprie azioni presenti in borsa quindi se l'azione di un labor di un'azienda cresce e invece l'azione di un'altra azienda scende allora il prezzo medio rimane uguale se invece la maggior parte delle aziende avranno una crescita allora anche il prezzo medio crescerà e viceversa se la maggior parte delle aziende perderanno perderanno il valore anche l'indice scenderà quindi che cosa ci fa vedere l'indice nsp 500 ci fa vedere un costo medio di 500 aziende più grosse del mercato americano quindi 500 aziende americane e la maggior parte dell'economia americana quindi in queste aziende è concentrato il volume più grande dei soldi la maggior parte delle persone lavorano per queste aziende cioè la maggior parte degli americani lavorano nelle aziende che rientrano nell'indice nsp 500 e se stiamo parlando di un'azienda concreta allora in questo caso sul prezzo sul valore possono influire diverse notizie e poi anche sul prezzo dell'azione per esempio 5 o anche 10 anni fa allora c'era una catastrofe ecologica vicino al Messico e quindi l'azienda che diciamo vendeva il petrolio ha avuto problemi perché le aziende perché le azioni il prezzo delle azioni sono crollate però questa azienda era l'unica che ha avuto questo problema che rientra nelle nsp 500 però nonostante il problema l'indice non è cambiato perché questo era solamente un'azienda è una piccola quota in un grande indice che contiene 500 aziende quindi indice nsp 500 ci fa vedere diciamo la situazione generale del mercato e anche dell'economia americana se l'indice nsp 500 cresce sappiamo che da 500 aziende la maggior parte si sviluppa e quindi si sentono bene quindi le persone che lavorano per queste aziende vuol dire che hanno un lavoro hanno uno stipendio e quindi tutto valisce se invece l'indice nsp 500 scende allora arriva la crisi e da questi grafici vediamo alti e bassi questi grafici ci fanno vedere le crisi poi c'era una crisi ipotecaria in america che ha influito su tutto il mondo era 2008 2011 se vi ricordate questa crisi mettete più nella chat almeno così capisco se siete aggiornati io intanto vado avanti quindi l'indice adesso abbiamo la pandemia prima c'era la crisi ipotecaria poi prima abbiamo avuto un altro un altro crisi di dot com prima di dot com nel 1926 c'era la grande depressione ma dal grafico che vedete sotto perché guardate sempre lo stesso grafico perché prima prima vediamo un grafico reale e poi un grafico ingrandito che riguarda un certo periodo di tempo quindi adesso vedete che la crisi del 1926 cioè la grande depressione questa crisi è durata quasi vent'anni e su grafico in alto non vediamo neanche questa crisi perché l'indice nsp 500 all'epoca costava pochissimo cioè da 35 ma costava massimo 35 dollari adesso invece l'indice costa come come minimo 4 4 mila dollari e mezzo quindi cosa vediamo da questo grafico che l'indice nsp 500 sempre cresce durante tutti questi anni però a destra vediamo i grafici simili però sono legati alla capitalizzazione di quindi si può paragonare questi due grafici quindi si può paragonare questi due grafici sopra vediamo la crescita veloce però nel grafico sotto c'è una crescita stabile quindi che cosa ci dice questa informazione vuol dire che il il mercato criptovalutario cresce in modo globale e si sviluppa in modo continuo se l'economia americana si sviluppa già da 150 anni vuol dire che anche cripto il mercato criptovalutario è un mercato che cresce e a prescindere della crisi continua la propria crescita vedete 100 nella chat se voi credete che nei prossimi 3 a 5 massimo 10 anni la nostra pensione e anche lo stipendio verrà pagato in criptovaluta se credete anche nella tecnologia blockchain che nei prossimi 5 10 anni sostituirà il sistema tradizionale cioè sarà come internet perché adesso internet è anche un cellulare ce l'hanno tutti ok bene grazie per le vostre risposte è proprio questo che vi voglio spiegare che prima o poi credete o no volete o no ma l'industria criptovalutaria sta entrando nella nostra vita quindi il nostro compito è di non perdere questo trend vedete potete vedere dei potete vedere dei crisi locali però dovete capire che questo mercato si svilupperà a lungo e veramente renderà moltissimo alle persone che hanno investito in criptovaluta il mercato azionario secondo le valutazioni di oggi ha più di 100 cioè stimato di più 100 trilioni di dollari invece il mercato criptovalutario ha un valore di 2 3 trilioni di dollari ma comunque c'è una bella differenza perché il mercato azionario esiste da tanto tempo invece il mercato criptovalutario è un mercato giovane quindi io sono sicuro che i soldi dal mercato azionario passeranno al mercato criptovalutario oppure verrà fatta una collaborazione quindi ci sarà una unione di mercato azionario e mercato criptovalutario forse mercato azionario passerà alla blockchain ma comunque ci sta aspettando un grande sviluppo vediamo adesso di che cosa è composto il mercato criptovalutario la metà è occupata da bitcoin 48 per cento 47 per cento sono le sono le monete che rientrano nella top cento quindi le maggiore 100 criptovalutario occupano il 90 95 dell'intero mercato esistono più di 11 mila valute criptovalute presenti sul mercato e solamente la top 100 occupano il 90 95 per cento dell'intero mercato qual è il ruolo di bitcoin più si sviluppa il mercato criptovalutario più scenderà anche il ruolo di bitcoin guardate bitcoin non perderà nel prezzo però sul mercato nascono le nuove criptovalute con le tecnologie uniche ci saranno delle soluzioni speciali le nuove aziende quindi nascono i nuovi giocatori che prendono il loro posto quindi nei prossimi tre cinque anni il mercato delle criptovalute crescerà ma non grazie a bitcoin ma grazie allo sviluppo della tecnologia e grazie all'implementazione di questa tecnologia nella nostra vita come sapete l'azienda oggi per gruppo avori ci hanno realizzato la propria block chain abbiamo il sistema di pagamento quindi anche noi usiamo la criptovaluta i nostri token di questo ne parleremo più avanti intanto cambiamo la slide e vediamo l'informazione che riguarda il 22 agosto qui ci sono 20 ma ne 20 monete che rientrano nella top 100 nel 2013 nella top 20 sono rimasti solo tre monete tre token e il mercato si sta sviluppando attivamente e la classifica delle posizioni calde cambia ogni due anni per esempio binance coin e cardano sono le valute che occupano la top 10 la top 20 però nel 2017 queste monete non esistevano ancora perché io dal 2017 che analizzo il mercato criptovalutario e vedo come nascono le monete come spariscono le monete monete adesso bitcoin occupa la posizione leader insieme con ethereum grazie ai contratti smart però sono sicuro che cardano e polka dot hanno tutte le chance di spostare la seconda posizione quindi analizzate questi token come cardano e polka dot andiamo avanti e vediamo che cos'è un fondo indice criptovalutario quali sono criteri di selezione del portafoglio allora cosa cercavo io e poi ho offerto anche alla mia alla nostra comunità in primis copertura massima del mercato perché il mercato il mercato cambia velocemente le monete possono nascere da nulla cioè uno mese e due mesi e occupano già la prima posizione è difficile controllare questo mercato quando strumento analizza il novanta per cento del mercato vuol dire che noi non perderemo diciamo i token più importanti secondo criterio riguarda liquidità conoscete che i token vengono bloccati per un periodo di tempo per esempio per quattro anni per un anno dipende dal token e la nostra comunità ha bisogno di liquidità cioè la possibilità di vendere e prelevare rapidamente i contanti cioè tante persone adesso analizzano questo criterio questo criterio è molto importante per avere i soldi qui e ora terzo criterio bilanciamento cioè la modifica della composizione del portafoglio in relazione alle condizioni di mercato come vi ho detto prima mercato è vivo cambia velocemente quindi questo parametro è fondamentale così noi capiamo sempre che il nostro portafoglio criptovalutario è bilanciato è attuale perché non deve succedere così che acquistiamo una valuta e tra due tre mesi questa criptovaluta sparisce oppure al posto di questa criptovaluta arrivano delle monete più interessanti quarto possibilità di influenzare la composizione del portafoglio quando noi possiamo togliere una moneta e applicare la propria strategia scegliendo i token che vogliamo avere nel nostro portafoglio la gestione dei token praticamente e ultimo criterio riguarda la soglia di accesso quindi è importante che questo strumento sia accessibile sia accessibile a tante persone quindi noi abbiamo analizzato questo prodotto come smart portfolio perché questo strumento lavorerà per il bene del nostro portafoglio di investimento globale e ogni utente che si trova nel nostro ecosistema potrà testare questo strumento e creare il proprio portafoglio criptovalutario vi voglio ricordare le condizioni di uso di questo strumento allora la licenza al momento attuale costa 1200 dollari all'anno dopo un anno bisogna prerogare questa licenza sono rimaste 90 licenze dopo aver venduto 90 licenze e il proprio quindi ricevendo il feedback dai primi utenti cioè loro ci confermano che tutto ok e tutto funziona perché bisogna avere il back office bisogna avere un account su binance attivare l'integrazione dello strumento perché le persone che acquistano questo strumento subito fanno parte della chat dove io spiego come usare questo strumento e la seconda condizione bisogna caricare il proprio account binance con 2000 dollari così il servizio potrà acquistare top 100 delle criptovalute quindi questa è la somma minima che dovete avere a disposizione sul vostro conto di binance quindi ripeto è la somma minima che dovete avere cioè se noi dividiamo per cento sono 20 dollari e che non sono tanti secondo voi 20 dollari sono tanti oppure no per acquistare qualsiasi moneta se siete d'accordo che è poco allora mettetemi uno per far lavorare il servizio per far acquistare cento monete come minimo ha bisogno di 2000 dollari tanti mi chiedono perché devono avere a disposizione questa cifra quindi io spiego che per avere cento monete allora serve minimamente questa somma quindi anche se caricate una somma inferiore il servizio non lavorerà in modo corretto poi vi voglio anche ricordare che potete attivare non solamente la top 100 di criptovaluta ma attivare top 50 oppure top 30 così la soglia di accesso sarà più basso se volete avere nel vostro portafoglio top 100 allora vi servono 3.200 dollari quindi 1.200 per la licenza e 2.000 per il conto su binance invece se acquistate top 50 in questo caso vi servono 2.700 poi c'è anche l'opportunità di avere top 30 di criptovalute allora vi serviranno 8.800 dollari 600 su account binance e 1.200 vi costerà lo strumento comunque io vi consiglio di caricare 2.000 dollari anche 2.500 2.300 per diciamo per essere sicuri perché se il mercato scenderà allora voi avrete un piccolo abbassamento e il servizio potrà funzionare in modo sbagliato quindi è meglio avere 200 300 dollari in più vi voglio ricordare che questo strumento lavora solamente con la borsa binance voglio subito avvertire i nostri partner americani e anche partner che non possono usare questo strumento strumento perché non possono passare la verifica su binance allora i partner americani hanno la borsa binance speciale destinata solamente a loro però non potranno usare questo strumento perché strumento lavora solamente con l'account principale di binance lo so che anche i bielorussi non possono avere un account su binance comunque sul sito di binance potete trovare sul sito di binance potete trovare la lista di paesi che non possono avere l'account su borsa binance tra poco vogliamo anche aggiungere la borsa hobby prima ho testato questo strumento l'ho usato però dato che vivo in bielorussia non posso più usarlo perché non ce l'ho la verifica comunque ho preparato l'account sulla borsa hobby ricordate che i vostri soldi si trovano sull'account della borsa quindi qui né azienda Evo Rich né UG Pay né sviluppatori di questo strumento non hanno l'accesso ai vostri soldi sono i vostri mezzi liquidabili accessibili 24 ore su 24 cioè voi in qualsiasi momento visitate la borsa binance potete vendere le monete e prelevare i vostri soldi su qualsiasi crypto wallet oppure sulla vostra carta di debito se vi piace questo momento vi chiedo di mettere più nella chat perché è importante che lo strumento sia liquidabile andiamo avanti e vediamo un altro punto fondamentale cioè la differenza tra lo strumento che vi sto presentando e servizi di trading perché adesso mi stanno mostrando delle applicazioni degli strumenti simili quindi però non è la stessa cosa perché usano trading qui bisogna capire che il servizio che si chiama Smart Portfolio non si occupa di trading e quindi non ha l'obiettivo di generare una rendita passiva questo servizio bilancia il vostro portafoglio cripto valutario quindi non si occupa di trading niente leva vi sta creando solamente un portafoglio cripta bilanciato e poi il mercato il mercato cripto valutario con il cambiamento dei prezzi vi renderà il profitto oppure l'abbassamento cioè un semplice esempio bitcoin costava 60.000 quelli che hanno acquistato il bitcoin lo possono vendere ad un prezzo inferiore oppure possono aspettare quando il prezzo cresce però dall'altro lato tante persone hanno acquistato bitcoin quando costava meno di 20.000 allora adesso chiederei ai nostri partner se voi avete acquistato il bitcoin mi potete scrivere a che prezzo l'avete acquistato il prezzo minimo perché io ho acquistato bitcoin quando costava 3.500 vedo che nella chat ci sono le persone che hanno acquistato bitcoin quando costava 900 680 dollari fantastico allora adesso vedo anche la risposta di 475 dollari incredibile guardate tutte queste persone veramente sono ricchissime perché anche se il bitcoin è sceso fino a 30.000 avete guadagnato comunque quindi prendete voi la decisione quando vendere il vostro portafoglio io qui ce l'ho i dati statistici del 16 giugno del 2021 è un conto di prova ho testato lo strumento e ho fatto vedere ad andrei come funziona abbiamo caricato 6.591 dollari e abbiamo acquistato lo strumento 1.200 dollari quindi l'investimento totale è di 7.791 dollari il 4 settembre ho avuto un capitale su Binance di 9.676 dollari quindi il nostro profitto è di 3.000 dollari abbiamo coperto le spese che riguardano il servizio in più abbiamo anche avuto una plusvalenza di capitale mensile 8,69% andiamo avanti ho già chiesto ai nostri primi partner che hanno acquistato il nostro servizio quindi loro mi hanno mandato le schermate vedete qui i conti su Binance qualcuno ha l'abbossamento altri invece un profitto comunque tutto dipende dalla somma che avete investito quando avete investito quanto costava una certa moneta comunque alcuni nostri partner hanno dei risultati tanti possono prelevare queste somme noi in due casi vediamo un profitto notevole cioè un profitto che supera il costo del servizio il costo dello strumento loro hanno guadagnato praticamente di più che hanno speso per lo strumento Smart Portfolio se vi piace questo risultato per piacere reagite nella chat almeno così capisco che siete interessati noi intanto andiamo avanti e vi voglio dire che questo strumento lavora per il bene del nostro portafoglio una parte una parte diciamo del prezzo dello strumento Smart Portfolio viene investito nel nostro portafoglio globale abbiamo già aperto dei conti così possiamo possiamo guadagnare perché abbiamo già un piano e vi faccio vedere quale token acquistiamo quale altcoin e così insieme controlliamo il risultato del servizio Smart Portfolio che lavorerà per il bene del nostro portafoglio poi nel futuro l'azienda ha intenzione di creare il proprio indice così durante incontro di rendicontazione Andre vi presenterà l'informazione privilegiata comunque abbiamo dei grandi piani per il futuro e anche per lo sviluppo della nostra azienda se conoscete i piani della nostra azienda se conoscete quali strumenti vogliamo introdurre mettetemi 5 nella chat questa è la nostra azione tokenizzata digitale del portafoglio di investimenti globale World Crew quindi il portafoglio Smart che si crea su Binance sarà parte della nostra azione tokenizzata quindi è uno strumento finanziario legalizzato e regolamentato creato secondo tutte le regole della SEC se volete sapere di più allora contattate le persone che vi hanno inviato il link di questo webinar adesso passiamo l'azione cosa bisogna fare per avere questo strumento in primis bisogna creare un account su Binance cioè vi avverte subito prima di acquistare questo servizio nel back office prima dovete fare la registrazione passare la verifica e anche caricare il conto di Binance quindi se tutto sarà posto con Binance allora solamente in questo caso potete acquistare il nostro servizio Smart Portfolio acquistando il nostro servizio nel nostro back office in Evorish confermate che avete un account su Binance quindi siate attenti prima Binance e solamente poi l'acquisto del Smart Portfolio nel nostro back office la seconda tappa è la registrazione del back office in Evorish API crew oppure UGPay fate la ricarica del back office acquistate il servizio e collegate le chiave API dell'exchange personalizzate la strategia e fate clic su avvia portafoglio allora guardate sulla borsa Binance dovete attivare le chiavi API ci sono dei video sul nostro canale YouTube ci sono anche le istruzioni sulla borsa Binance in tutte le lingue creando questa chiave dovete passare al back office Crypto Unit e nella sezione EIB trovate EIB Smart Portfolio vi voglio ricordare che in questa sezione c'è anche un link dove potete trovare la registrazione nei nostri webinar poi c'è anche l'istruzione che riguarda lo strumento Smart Portfolio quindi seguendo il link trovate tutta l'informazione necessaria e nella vostra lingua vi viene spiegato come usare questo strumento sotto c'è anche la tabella la tabella che riguarda la redditività vi faccio vedere più avanti come usarla e sotto troverete il tasto schiacciando il quale potete acquistare il nostro prodotto dopo aver acquistato il nostro strumento vedrete il tasto Go to Smart Portfolio schiacciando il quale arriverete nel back office di Cadex dovete attivare le chiavi API e nella sezione impostazioni dovete creare la vostra strategia dovete scegliere i giorni quando avviene bilanciamento tra quanti giorni il servizio controlla se il vostro portafoglio è attuale se non è più attuale allora alcuni token verranno venduti altri invece acquistati così il vostro portafoglio sarà bilanciato però bisogna capire che se il portafoglio non è cambiato cioè se le criptovalute sono rimaste sempre allo stesso posto in questo caso anche il portafoglio rimane così cioè le valute non verranno vendute di solito vengono vendute solamente le monete che hanno perso la loro posizione poi voi potete anche escludere le monete potete creare una blacklist nella blacklist ci sono stablecoin cioè le monete che hanno un prezzo stabile che non è variabile e nella pagina principale voi potete mettere in pausa il lavoro del servizio voi potete anche ricalcolare il vostro bilancio così non dovete mettere in pausa interrompere il servizio se volete ricalcolare il vostro bilancio potete scegliere la strategia top 100 top 50 oppure top 30 poi potete anche fiscare il vostro profitto per esempio 10% e prelevare il vostro profitto con questo tasto potete vendere il vostro portafoglio parzialmente oppure completamente così dalla borsa Binance potete prelevare la somma che avete guadagnato grazie al nostro servizio vi voglio ricordare che questo prodotto è dato per coloro che abbiano un account verificato su Binance se invece non avete i soldi per acquistare questo prodotto oppure non avete l'account su Binance e non potete passare la verifica allora per vendere questo strumento basta avere la registrazione nel nostro back office average quindi potete promuovere questo prodotto invitare le persone ai nostri webinar ai nostri eventi e così guadagnare grazie al sistema riferenziale e poi acquistare il nostro servizio vi voglio anche ricordare che su borsa Binance ci sono più di 16 milioni di utenti quindi è il pubblico che è pronto ad acquistare un tale strumento almeno 10% 1 milione e 600 mila sono pronti ad acquistare questo prodotto solamente perché hanno la criptovaluta su account Binance quindi la vogliono distribuire e avere un profitto quindi tutte queste persone sono i vostri clienti potenziali vi stanno aspettando la cosa principale non è che dovete attaccare contattare tutte le persone che hanno l'account su Binance dovete solamente presentare questa informazione e poi analizzando questa informazione le persone di sicuro acquisteranno questo prodotto voglio rispondere alla domanda più comune cosa fare se il mercato cade quindi quando c'è un abbassamento quando abbiamo il profitto qui tutto chiaro o possiamo prelevarlo oppure lasciarlo su account però quando il mercato cade la maggior parte di persone hanno paura cioè vogliono svendere il proprio portafoglio guardate se noi investiamo nel mercato criptovalutario e capiamo che questo mercato cresce allora dobbiamo anche capire che l'abbassamento è una cosa temporanea quelle che hanno investito in Bitcoin quando il suo prezzo era 600 400 dollari voi avete superato sia alti che bassi e adesso avete il profitto solamente per la vostra pazienza quindi una delle strategie è aspettare la seconda tecnica è di vendere il profitto di vendere il portafoglio e acquistare un portafoglio più piccolo però qui bisogna essere attenti perché la tendenza può cambiare e voi potete perdere molto perciò bisogna avere una strategia intelligente e terzo modo che raccomando raccogliere degli attivi durante l'abbassamento perché siamo sicuri che questo mercato si sviluppa che questo mercato cresce adesso vi faccio il mio esempio personale io acquistavo la criptovaluta durante il 2018 e il 2019 e anche nel 2020 cioè 10% del mio stipendio investivo in criptovaluta accantonare il 10% chi mi sa dire quale comandamento è primo secondo terzo quarto oppure quinto quindi durante due tre anni io accumulavo la criptovaluta e guardate a che risultato sono arrivato sono arrivato ad un profitto notevole grazie alla mia pazienza e anche grazie alla mia strategia se vi interessa allora posso condividere con voi la mia esperienza vi presento la mia visione e anche la mia strategia quindi potete usare questa informazione cambiare questa strategia oppure prendere la vostra decisione adesso sono pronto a rispondere alle vostre domande però come facciamo ci organizziamo in questo modo prima rispondo prima rispondo alle domande nella chat russa e poi passiamo ad altre chat se ci sono delle domande nella chat inglese italiana oppure spagnola quindi rispondiamo anche però vi chiedo prima di scrivere tutte le vostre domande nella chat però mi sono scordato una cosa adesso condivido il mio schermo allora adesso vi faccio vedere il mio back office passaggio di passaggio ok adesso vediamo la condivisione dello schermo questo è il mio back office vediamo la tabella che riguarda la redditività del nostro smart portfolio ho realizzato questa tabella per i nostri partner per i nostri utenti così voi capirete come gestire questo strumento allora non sempre il portafoglio vi dimostra in modo giusto la redditività perché potete fermare il portafoglio ricalcolarlo oppure possono avvenire alcuni cambiamenti su Binance quindi le cifre che vedete nel back office possono non corrispondere alla realtà quindi la quantità dei soldi è giusta però la redditività viene calcolata in modo sbagliato e poi le cifre che vedete nei back office allora non rispecchiano la vostra spesa cioè la spesa che riguarda il servizio invece questa tabella ci fa vedere il quadro completo la situazione reale schiacciando questo link vediamo il documento Excel la prima cosa nella sezione file dovete copiare questo documento lo dovete copiare sul vostro Google Drive perché qui potete solamente visualizzare però copiandolo sul vostro Google Drive lo potete anche correggere ok adesso sto creando la copia e qui potete già lavorare con i vostri risultati nelle caselle gialle potete queste caselle potete cambiare in primis scegliete la lingua Google traduttore tradurrà questo documento nella vostra lingua ecco qui ho scelto spagnolo poi scelgo la lingua italiana quindi è una tabella universale per il momento io scelgo la lingua inglese e scelgo adesso il secondo foglio che si chiama Table c'è un piccolo esempio almeno così avrete un'idea come funziona questo strumento adesso cancello questi dati all'inizio del mese la persona ha caricato il suo account Binance il primo settembre del 2021 ha caricato 2.000 dollari e il giorno prossimo ha passato la verifica e il 2 settembre ha acquistato il nostro servizio che costa 1.200 dollari quindi 1.200 è l'acquisto su Binance cioè la 2.000 quindi la somma che può prelevare da Binance equivale a 2.000 dollari quindi il 2 settembre ha acquistato 1.200 però comunque questa somma non c'entra niente con Binance quindi su Binance rimane sempre rimangono sempre 2.000 dollari quindi adesso la tabella ci ha calcolato che noi abbiamo speso 3.200 dollari però per rilevare da Binance possiamo solamente 2.000 dollari quindi adesso abbiamo una perdita di 1.200 dollari e il nostro compito usando questo servizio il 10 settembre abbiamo controllato quanto costa il nostro portafoglio vediamo che la criptovaluta è cresciuta nel prezzo noi non abbiamo ricaricato il portafoglio e adesso il nostro portafoglio grazie a questa crescita costa 2.500 dollari vedete che abbiamo ancora la perdita però è diminuita di quasi 50% quindi per 5 giorni avviene un abbassamento a causa di qualche notizia negativa quindi il mercato criptovalutario scende nel prezzo quindi per noi è un'opportunità di acquistare la criptovaluta a buon prezzo quindi possiamo investire 500 dollari quindi caricare 500 dollari su account di Binance adesso questi 2.500 dato che il mercato è sceso quindi 2.500 si sono trasformati in 1.700 vediamo che la nostra perdita cresce ma noi aggiungiamo 500 dollari quindi caricchiamo 500 dollari e adesso il nostro bilancio è di 2.200 dollari vediamo sopra nella casella a destra in alto abbiamo investito 3.700 dollari se il 20 settembre il mercato cresce perché come sapete il mercato non è stabile può sia crescere che scendere e adesso il nostro portafoglio costa 4.400 nel nostro caso vediamo che abbiamo già un profitto un profitto di 700 dollari nel campo nel campo seguente vediamo anche l'accrescimento del capitale al mese così se ogni mese facciamo questo controllo se il 20 di ogni mese facciamo la ricarica di 500 dollari il nostro portafoglio crescerà quindi arriverà a 6.000 vedete il campo del profitto è 1.800 quindi noi abbiamo investito 4.200 a 6.000 il nostro capitale quindi il nostro profitto è di 1.800 dollari il 20 novembre carichiamo altri 500 dollari il nostro portafoglio è cresciuto fino a 7.000 poi vediamo il risultato il nostro profitto è di 2.300 dollari il 20 dicembre grazie alle notizie positive bitcoin inizia a costare 100.000 dollari senza alcun investimento il nostro portafoglio potrebbe valere 14.000 dollari in questo caso vediamo che abbiamo un profitto quindi possiamo prelevare 5.000 ecco ho messo qui meno 5.000 e vediamo subito nella casella in alto la somma che abbiamo prelevato comunque questa tabella verrà modificata ma se voi mi lasciate il feedback osservazione qualche commento allora io sono sempre aperto ad una collaborazione se servono alcune colonne oppure alcuni campi allora lo possiamo aggiungere questa tabella potete trovare nel back office potete testarla e aspetterò il vostro commento potete scrivere sia nella chat in telegram perché abbiamo creato anche questa chat speciale per i nostri primi 200 utenti che testano il nostro servizio oppure mi potete scrivere in privato mettetemi da uno a dieci se vi piace questo strumento la tabella che ci aiuta a gestire la redettività ok grazie per le vostre risposte e passiamo alle domande e risposte perché lo so di solito ci sono tante domande legate al mercato criptovalutario alle tendenze poi le domande legate alla nostra azienda e lo strumento smart portfolio quindi aspetto le vostre domande io sono disposto a rispondervi prima analizzo la chat russa quindi mi stanno chiedendo nella chat russa quindi devo caricare 2000 su Binance e 1200 costa lo strumento giusto guardate torniamo alla nostra presentazione io qui ce l'ho la slide che riguarda il costo del pacchetto fate la foto oppure una schermata perché ci sono diverse strategie la top 100 top 50 e top 30 per acquistare top 30 criptovalute allora dovete avere 600 dollari acquistando acquistando lo strumento vi servono 1200 quindi totalmente sono 1800 dollari se invece scegliete la strategia top 50 vi servono 2700 e la strategia top 100 vi costa 3200 dollari quindi la somma minima la soglia di accesso è di 1800 dollari ok altre domande ok vedo che nella chat russa non ci sono più le domande passiamo alla chat inglese qual è il miglior periodo per fare il bilanciamento del portafoglio allora la mia opinione personale più spesso fate meglio è perché il mercato cambia in una maniera molto veloce se voi controllate le tendenze del mercato e almeno una volta alla settimana potete controllare tutto quello che sta succedendo sul mercato se voi almeno una volta controllate il prezzo di bitcoin allora vi vi consiglio sette giorni quindi fare il bilanciamento ogni sette giorni però succede quando la persona riceve lo stipendio in un certo giorno quindi il 10% dallo stipendio fa proprio in quel giorno se riceve lo stipendio due volte al mese così la persona potrà stabilire scegliere impostare 14 giorni potete mettere anche 21 giorni oppure potete fare bilanciamento in modo autonomo cioè schiacciando il tasto quando vi pare giusto se vedete che una criptovaluta è cresciuta nel prezzo allora potete ribilanciare il vostro portafoglio qui ognuno deve scegliere il proprio periodo di bilanciamento quello che volete avere da questo portafoglio se volete avere un portafoglio aggiornato allora mettete 7 giorni ma poi dipende anche dalle vostre condizioni e anche del vostro stile di vita perché se non siete un investitore attivo in questo caso potete mettere 14 giorni oppure 21 giorni ok un'altra domanda allora quando possiamo avere la chiave privata per i primi portafogli che hanno solamente la frase sì per il momento non so come rispondere a questa domanda non ce l'ho i dati concreti quindi vi consiglio di seguire le nostre notizie per il momento non sappiamo la data ufficiale la prossima domanda ma esiste un chat in telegram per acquirenti di Cadex sì allora i primi 200 partner che acquistano il nostro servizio partecipano alla chat alla chat speciale quindi io rispondo alle domande si può trovare dei screen risolviamo delle situazioni complicate dopo aver venduto 200 licenze noi creeremo anche una chat comune come abbiamo Global Unite Pay in UGP Group quindi creeremo un chat per ogni paese voi nel back office troverete il link che vi porta alla vostra chat potete condividere le strategie l'informazione quello che volete nella nostra chat mi stanno chiedendo se siamo riusciti a vendere 200 licenze per il momento no sono rimaste 90 licenze comunque il numero aggiornato potete trovare nel nostro back office comunque se volete avere l'accesso all'informazione privilegiata in questo caso dovete essere i primi ad acquistare il nostro strumento contattate il nostro supporto tecnico e vi aggiungiamo nella nostra chat in Telegram questo è il mio gruppo personale dove io gestisco i primi 200 partner che hanno acquistato il nostro strumento parliamo in due lingue in inglese e anche in russo poi un'altra domanda qual è la miglior strategia quando il mercato scende poi se il portafoglio era 2000 poi è sceso fino a 1600 durante l'abbassamento ha senso di ricaricare il portafoglio per avere questa soglia minima di 2000 come agire in questa situazione ok ho capito la domanda adesso vi do una risposta la prima parte della domanda qual è la miglior strategia quando il mercato scende guardate ci sono tre strategie vi ho già spiegato o aspettare oppure vendere il portafoglio e acquistare un portafoglio diciamo che costi di meno comunque tutte queste cose vi spiego nella chat chiusa cioè vi presento la mia strategia ma comunque secondo me la miglior strategia è una strategia media quindi quando il mercato scende voi caricate il vostro account perché ci sono dei sconti il mercato vi vi permette di acquistare qualche moneta con lo sconto e la stessa cosa quando avete fatto la benzina e domani ci saranno dei sconti quindi potete prendere una tannica di benzina per avere uno sconto dopo domani ci sono ancora sconti allora potete acquistare un'altra tannica di benzina e quando il prezzo crescerà voi potete usare la benzina che avete acquistato con lo sconto ma bisogna capire la logica principale che il mercato si svilupperà che il mercato crescerà però tornando alla strategia se avete acquistato 100 monete e poi avviene un abbassamento e quindi avete solamente 1600 sul vostro conto potete aggiungere 400 dollari per avere sempre 2000 oppure vendere questo portafoglio e acquistare la top 50 perché per la top 50 vi servono 1500 dollari invece quando questo portafoglio di top 50 crescerà fino a top 100 allora potete venderlo e di nuovo riacquistare la top 100 non so se avete capito la mia risposta ma se vi è chiara la la mia strategia mettetemi 5 nella chat perché ci sono due soluzioni o aggiungiamo i mezzi oppure scegliamo un portafoglio che costa di meno per esempio la top 50 oppure la top 30 ok ci sono altre domande ok vedo che nella chat italiana e anche nella chat spagnola non ci sono le domande però mi chiedono io posso perdere tutti i miei soldi se il mercato continua a scendere ok e invece io vi faccio questa domanda ma credete che tutte le criptovalute come ethereum bitcoin cardana cioè tutti quelli che rientrano nella top 50 possono costare un centesimo se mettete più vuol dire che credete cioè ma secondo voi tutte le criptovalute possono perdere il proprio valore cioè come potete perdere tutti i vostri soldi solamente se forzano il vostro account su Binance oppure se perdete il vostro log nella password poi potrebbe qualcosa succedere con la borsa Binance però dovete capire che la borsa Binance è la borsa più grande su questa borsa conservano i propri soldi le persone molto ricche quindi è poco probabile che la borsa Binance domani sparirà è veramente una borsa sicura una borsa serie lavorano 24 ore su 24 hanno la propria blockchain quindi secondo voi una borsa del genere potrebbe sparire un giorno quindi non è non è possibile perdere tutti i soldi si può avvenire un abbassamento e bitcoin può costare anche 20.000 però comunque vi faccio questo semplice esempio nel 2017 bitcoin costava 20.000 nel 2019 costava 3.000 ma io non ho perso neanche un bitcoin invece adesso quanto costa bitcoin 45.000 45 e io ho acquistato quando costava 3.000 3.500 quando ho investito 10.000 il mio profitto era 20.000 quindi vuol dire che ho ricoperto tutte le mie spese in più ho guadagnato quindi secondo voi è una perdita oppure un guadagno quindi se stiamo parlando dei bot che fanno trading allora sì è possibile perdere i soldi se viene usata la leva in questo invece nel nostro caso niente leva niente trading cioè il servizio acquista acquista le criptovalute e però non li vende in modo automatico invece se io non ho passato l'esame allora posso investire guardate il prodotto come smart portfolio lo potete acquistare senza alcun limite cioè non vi serve esame non vi serve una qualifica è un servizio che collabora con la borsa Binance quindi potete usare questo servizio al vostro piacere acquistare qualsiasi criptovaluta quindi dovete voi decidere come gestire questo portafoglio e nel back office Crypto Unit voi acquistate solamente il servizio che costa 1200 dollari noi vi aiutiamo come usare questo servizio e cosa fare che strategia applicare per avere avere un profitto guadagnare di più e informiamo tutti i nostri clienti tutti i nostri partner se ci saranno degli aggiornamenti se ci saranno dei cambiamenti così sarete sempre al currente ok adesso la domanda che riguarda le impostazioni guardate schiacciando il tasto invia allora fate partire lo strumento perché voi avete i soldi che si trovano sul vostro conto in dollari schiacciando il tasto start partenza allora il sistema analizza criptomercato e vi acquista vi acquista delle valute che rientrano nella top 100 quando schiacciate il tasto fermare la strategia in questo caso il sistema smette di bilanciare il portafoglio e di analizzare il criptomercato invece quando schiacciate ricalcolare il mercato per esempio la strategia faceva cioè lo strumento faceva un bilanciamento ogni sette giorni oppure ogni quattordici giorni e il tasto ricalcola vi serve per fare un bilanciamento manualmente cioè per avere un risultato attuale e se schiacciate il tasto pausa e prelevate i soldi da Binance in questo caso cambierà anche il vostro grafico se avete cambiato la strategia cioè dovete fermare il vostro portafoglio prima puoi cambiare la strategia per esempio da top 100 scegliete top 50 allora poi avviate di nuovo la strategia se aggiungete dei soldi su Binance 500 dollari in questo caso non dovete fermare il servizio dovete solamente schiacciare il tasto bilanciamento così il servizio distribuirà 500 dollari su diverse monete fermare lo strumento bisogna solamente se cambiate la strategia o fate dei cambiamenti globali ok ma ha senso di fermare questo strumento quando il mercato scende allora in questo caso quando il mercato scende meglio vendere il portafoglio fissare il vostro profitto e rimanere diciamo ad una certa posizione se avete 9500 dollari allora vendete il vostro portafoglio se vedete che il mercato scende è sceso di 10 15% schiacciate bilanciamento e acquistate la top la top 50 oppure la top 100 ma se acquistate la top 100 acquistate più monete perché il prezzo sia basato se voi solamente fermate il servizio allora le vostre criptovalute scenderanno nel prezzo però se volete prelevare la somma che avete in questo caso è meglio vendere il portafoglio perché se fermate lo strumento allora non avrà più nessun bilanciamento perché così rimarranno tutte le monete e lo strumento sarà fermo quindi è meglio vendere il portafoglio cioè scegliete la somma che volete vendere la percentuale 20% 30% ricevete USDT e quei USDT potete anche distribuire quando il mercato scenderà e acquistare ancora più criptovalute cioè per voi è come uno sconto avete creato una pagina landing per questo prodotto sì per il momento il landing è in inglese e in lingua russa tra poco troverete il landing nel back office ma si può usare solamente in lingua inglese e russa però bisogna manualmente inserire il login della persona che vi è invitato quindi manca la parte referenziale appena realizzeremo questo compito allora troverete il landing page nel nostro back office ci sono dei piani di integrare questo strumento con la borsa Unitec sì abbiamo questo piano però è un piano a lungo termine perché sulla nostra borsa non abbiamo così tanti token come la borsa Binance e poi la nostra borsa Unitec è una borsa giovane sia il fatturato che degli utenti quindi prima noi dobbiamo promuovere la borsa e poi integriamo anche il smart portfolio poi mi stanno chiedendo come caricare la borsa Binance cioè potete caricare la somma una tanto potete anche dividere questo importo in due rate però ricordate che il servizio lavorerà solamente quando sul conto avete la somma necessaria da 600 dollari potete attivare la strategia top 30 Allora qualche giorno fa il nostro partner ispanofono ha organizzato un webinar dedicato a Cadex quindi questo strumento è molto richiesto nei paesi di America Latina ok vedo che non ci sono più le domande però dove si può trovare la registrazione la registrazione di questo webinar si può trovare nel back office nella sezione EIP EIP Smart Portfolio c'è il tasto scopri di più potete potete trovare potete trovare le istruzioni come usare questo strumento la tabella schiacciando questi tasti potete trovare il nostro canale YouTube e su questo canale troverete tutte le registrazioni dei nostri webinar ok vedo che non ci sono più le domande ringrazio per la vostra attenzione per me è sempre un piacere organizzare un webinar del genere ci vediamo la settimana prossima e vi potrò far vedere i primi risultati del nostro portafoglio globale perché adesso stiamo aprendo il conto su Binance e così in tempo reale noi possiamo fare l'investimento il mercato criptovalutario è un mercato volatile quindi siate attenti vi auguro tanto successo e anche tanta forza finanziaria ciao a tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti